Il russo vengito riceve l'ordine, i corni intrappolano nel mio palazzo è un esercito contro un manipolo, un controquindici ma come avventerà parlo duodecimo e visi rossosi cantare con cani non so ma non è giusto contro un'ordine e si affiantano dietro agli ostacoli tre giorni impuri all'agra e a musica tre giorni iniziano alla morte e cantano e infine di ferito l'assalti continuano l'istante tragico come resistere non devo scegliere proprio no caldo, 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 caldo le torce fumano pronto l'incendio ma nel vestibolo io spesso rotterò per il dipolvere stringo la miccia e cento saltano cos'aggioria io la quindri e tre bravo gli amici d'accordo e qua lasco io posso al carmini l'amici d'accordo Grazie a tutti.